Daniele Job, 25 gol in campionato, ma questa sera chiaramente non puoi essere felice. Un sogno che se ne va Daniele? Sì, ormai è finita tutta. Il nostro sogno è finito oggi. Dovevamo assolutamente vincere, ma è andata male. Peccato veramente, il rammarico è veramente grande. Sul 2-0 non ci credevamo più, abbiamo recuperato due gol, nel secondo tempo però siamo mancati, non siamo riusciti a segnare e vincere la partita. Peccato, dispiace veramente tanto. Che cos'è mancato in particolare secondo te? La partita di oggi? Ma abbiamo sbagliato forse troppi gol. Loro ci hanno punito nelle tre occasioni che hanno avuto, invece noi abbiamo creato di più. Il loro portiere veramente ha fatto delle belle parate. Peccato, peccato veramente. Senti, tu adesso hai detto che è finita qui, ma hai un obiettivo importante perché stai volando la classifica a marcatori. Qualcuno parla che si potrebbe battere anche qualche record. Non mi interessano i record, veramente. Ci tenevo tanto a questo campionato della classifica ormai. Non conta più nulla, secondo me. Non conta più nulla. E quindi cosa farà il Ville da qua al 9 ottobre? Cercherà di onorare le ultime partite e vincerle tutte per riuscire ad arrivare a meno secondi davanti al Cavazzo. Cercheremo così di recuperare un po' di punti.